Allora, il punto della questione è dare continuità sia ai docenti anche a favore dei ragazzi per avere un'istruzione continua e graduale, non che ogni volta devono ricominciare la cattedra. L'articolo 59 era volto a dare il ruolo ai precari che riuscivano ad ottenere la cattedra a 31 agosto. Siamo qua, siamo qua. Perché? Perché da Napoli in giù questo non è mai stato permesso. 3.200 posti che danno ovviamente al 30 giugno, e che settimana prossima andremo a firmare, in realtà sono a 31 agosto e lo Stato non vuole spendere i soldi per trasformare questi posti da posti in deroga a posti di diritto. Posti che ci spettano, cattedre vacanti che noi andiamo a colmare. Siamo proprio dei Tappapulti. Questo è quanto.